Immaginavo tutto Ah si? Dopo Fragola Che ciliegina c'è? Mi dirai poi Se prima vinta lo starci Bene va bene Ma la chicca è questa Ma poi chi è che vince secondo te? Che le canzoni? Moro e Armandini? Moro e Armandini Penso un po' paraculo Se canti di terrorismo Cerchi l'applauso facile Certo No e poi chi è che ti ha colpito? Chi c'è? Ron? Ron? Aveva una capacità di spiritura unica Che oggi probabilmente non c'è più Di pezzi belli ce ne sono Guarda io ti dico una cosa Io ho fatto un unico festival di Sanremo Parlo tu nei festi di 5 5 festival di Sanremo Io lo dico qua stasera che sta iniziando il festival di Sanremo L'anno prossimo Io se vai tornerò un giorno La festa di Sanremo ci vorrò andare con Paolo Melibuzzi Se no non ci vado Grazie Io lo dico E tu? E siamo anche noi Anche tu Anche tu? Ah grazie No davvero O vado con Pablo o non ci vado Simo! Ci saranno delle sorprese che vedi Simo insieme prossimamente No E ora Speriamo se no Quindi tu parti tra poco Ormai giù Sanremo? Io parto tra mica tanto che abbiamo un appuntamento magari da ricordare Che mi giovederemo insieme Il lunedì dopo Sanremo Ah è vero è vero Ma scusa ma non potevi andare qua con la gecgino e facevi l'intervista ai ragazzi Ma la prossima volta Tanto il paraoda credo che non ci vuole più No? Non ne facciamo più di serate Basta Io direi che No Ci mi è andata maluncio No? No allora facciamo così Visto che lui è uno speaker radiofonico e lavora per una radio comunque molto ascoltata Anche qua in Ticino Allora la promessa è che la prossima volta che facciamo una serata qui al paraoda con tutti i ragazzi Tu gli fai un'intervista ai ragazzi radio E' una promessa Ok Grazie 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 Qualche ragazzo mi ha detto che si è ascoltato e si è assoluto Bene bene Perché è importante anche che passiate per radio o almeno capite un po' se il pezzo è caccio per me Giusto? A quello che mi colpisce sempre del tuo percorso perché sono andato a scuola Che i ragazzi sono preparati passo dopo passo comunque sono preparati Sono preparati e soprattutto non c'è quella fretta di utilizzarli come prodotti Quindi i ragazzi non sono prodotti Sono degli artisti Sono dei musicisti Sono degli artisti che si stanno approcciando al mondo che comunque non è sempre il suo mondo di lavoratori Sì perché soprattutto Simo insieme a me qualche volta ci sono io Facciamo un percorso davvero speciale dove cerchiamo di farli scrivere, cerchiamo di che diventino fin da subito artisti, produttori dei loro brani, autori e compositori allo stesso tempo e cerchiamo sempre di farli accompagnare da uno strumento se ci riusciamo se ci sono in possibilità C'è una ricerca nel suono e non è facile trovare in una scuola di musica Quindi davvero complimenti ragazzi perché grazie a nome della musica No, l'intento è proprio quello di creare qualcosa di nuovo che siamo molto legati, molto vicino a quello che è oggi la musica no? Che non vuol dire che è adatto solamente ai teenager e ai ragazzi ma anche agli adulti Abbiamo anche gente anziana che non si può suonare la chitarra Sì però è giusto, secondo me fanno anche i commenti di governi e in questa scuola ci stiamo riuscendo Quindi siamo diventati tantissimi, ma davvero tanti Ragazzi che cantano bene ci sono, siamo una cosa come 500 iscritti Grazie a nome di Diama La Lugina Aspetta, allora chiudiamo con questo pezzo che siete qua, dai, questo lo sono anche i tavolini, dai Ciao e devo stare qua Ci fiscalisco Ciagga 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 sospende le sue majorsciore Ciagga ciagga, ciagga ciugge anche gerisco Ma io di Giorgio Vai, vai! 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 Vai, vai!